Allora, te la faccio breve, le ho raccontate prima ai ragazzi E noi in giro alla Games Week sabato Arriva sta tipa, tutta carina, ma addio, ciao Michelle, foto, cose E un giorno domenica, posso farti un'intervista che dici no? Normalmente dici no Ciao, siamo qui con Michelle Puttini Allora, senti, voglio chiederti una cosa Cosa ne pensi del fatto che in live la maggior parte delle persone si masturbano mentre ti guardano? Io così Ma, scusa, questa intervista dove è? Non è ancora uscita, stiamo aspettando una cosa Ma dove? Non lo so, io solo ero sconvolta Perché poi, vai, rispondo dicendo, guarda, non penso Perché dici sta cosa? Nel senso che, vai, sì, sì, così vi faccio Parla Io, eh? Esatto Vabbè, quindi svio Svio No, no Svio un pochettino e mi fa Ok, altra domanda Quanti cazzi in chat ricevi in direct? Chi era questa tipa? Non lo so Ma era una fama? Non lo so, non te lo so veramente dire Forse è una di quelle interviste tipo milanese imbruttito Non te lo so veramente dire, non te lo so dire E tu come hai risposto? Nella maniera più neutrale possibile Dicendo, guarda, non mi arrivano foto di cazzi in chat Insomma Ieri mica lavoravi all'Epic Games Salve a tutti, sono l'assistenza Epic Games Mi dica questa chiamata è dalla Romania E può essere registrata Mi dica subito qual è il suo problema Ma? Mi spiegate C***o sapere quale Quando I server di Epic Games vanno Io non lo so Non sei il suo di Epic Games Non credo Non credo proprio di essere il suo di Epic Games ragazzi Ma la bocca quanto te stavi forzando capo? Sono così Cioè non è che C'ho delle belle labbra Non so che cazzo non stia andando ultimamente Non riesco a cuccare Non sei cucca Sarà perché sto in casa tutti i giorni Fingi di fidanzato e il giorno dopo ne hai cento dietro Ah tu dici di fare il meme tipo foto così Dici così beh Eh no Ci ho provato una volta Ci ho provato Però non è andata Non è andata troppo bene Ci ho provato anche a fingermi fidanzato Tipo Foto Metti tipo un braccio dentro un cappotto E un altro braccio in una felpa E gli fai stringere la mano L'ho fatto una volta davvero Per Per fare ingelosire una persona Non è andata bene Non Che vi devo dire Flo oggi ho fatto aprire l'Icon alla mia ragazza Luca De Cesare Però Adesso io sono contento che tu sei fidanzato Però Porco il tuo d***o Puoi evitare di lasciarmi complesso Sul fatto che io non lo sia? Io so che c'è stato un drama con Kukeshi Ho visto delle clip Ah ok Ok questo non so E lo racconti? No Cercalo su TikTok Eeeh Ah ok O a me è capitato No io Ieri mentre stavo entrando Mi sono guardato 5 minuti di video su TikTok Di questa cosa qua Tra l'altro ho conosciuto per la prima volta Kukeshi Effettivamente Anch'io E' stata molto molto carina Sì è una bella Io ero con Hank in quel momento E' stata una scena molto simpatica Ero da Arcadia E c'era Hank da solo In una sedia Spostato da tutto e tutti E mangiava il suo panino Ma ha fatto una tristezza incredibile E lì ho conosciuto Kukeshi Veramente Veramente carina Sì Che è Kukeshi? Nuova streamer? Sei un coglione Veramente Smettila Non fa più ridere questo giochino del Toscano Non fa più ridere A me fa sempre ridere Eeeh Non mi ricordo che volevo dire O esci Mi ha fatto Dimenticare Nulla E voi non siete simpatici Simpatici Basta smettila A me piace A me piace il Toscano Quindi non è Io lo odio E odio Non c'è problemi E a me è bellissimo il Toscano Sì Hank Sì E anche Hank Non è divertente Però Però Boh No Ecco di trami Io so che Non so chi Perché non mi hanno fatto nomi Maledizione Però mi hanno detto Da desire Che due streamer Si sono presi a pugni Non ho capito Gli erano Io non so chi fossero Ci informeremo Vi racconterò No Perché il trama non mi interessa Fatti per questo no Va benissimo così Ma un caso Cosa vedi Cosa gli lanciava Shuri Il fascio luminoso Il fascio luminoso C'è La combo C'è proprio la combo C'è Dici Va bene Va bene Va bene Va bene La rega Lasciatemi sta Eh Affanculo Ma mi fa prendere Che cazzo E c'è Ma pop che da la scena Mi fa a me Non ho detto Che fa schifo Dio cristo Allora Villensaga fa schifo Ha detto Ok Ecco Non è vero Incredibile Capolavoro Fortissimo Ani Ani Sì Non voglio più essere ripreso Dopo questa Andrea Andrea Non ho veramente parole Arrivato il momento Di mangiare Delle robe radioattive Delle robe caccomerdose Delle schifezze Di vario tipo Allora Innanzitutto Che cosa è La ciamoi deal Mi dite Che cos'è La ciamoi E perché c'è questo Uomo peperoncino Che sorride Perché secondo lui E' buono No Uuu Che puzza Le forbici No Ragazzi Puzzolentissimo Sa tipo un sacco Di aceto Super Acetoso No ragazzi E' demoniaco No Non si può Non si può Non si può Oh madre Teresa No ragazzi Non lo man Non lo posso mangiare Eh non Non Io gli do Vabbè Ho mangiato La patatina Più piccante al mondo Ho mangiato Ma Guardate il liquido Sembra il coso Dei polaretti No ragazzi Non è salutare Questa roba No 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 Ho mangiato Una Dei polaretti Non è Mini bottiglia di pulcino pio Dentro ci sono queste specie di praline strane ragazzi Oh magari questa volta ci stupiscono e sono buone Come si mangiano? Boh così Ma perché devono fare tutte le cose asprissime? Porca c***a che schifo so tipo di mirtilli super aspri Holy s*** Mi stai dicendo che questo coso scade nel 2030? 24 11 30? Poi è il contrario perché è giapponese No perché se sto robo scade tra 7 anni io devo capire con che cosa è fatto Ok è la classica caramella zuccherina allungata raga Vedete è la classica caramella zuccherina allungata Ragazzi appena è finito lo zucchero Cioè è partito questo gusto di uva ammuffita Oi 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 No Mato Questo coso è molliccio È quello che si ciocciano nei TikTok ASMR Non so che cosa sia Non c'è nessun tipo di indicazione che mi faccia capire C'è scritto soltanto jelly Questi sono una hit E questi li ho visti mangiare con buon gusto raga Non c'è nessun tipo di indicazione che mi faccia capire Allora Allora l'ho sputato Allora l'ho sputato Allora l'ho sputato Per un semplice motivo Non faceva cacare il sapore Ok era tipo una specie di menta frescolina Però la sensazione di quel viscido sgusciante No non è sopportabile Adesso tu dal culetto di questo coso devi far uscire una di queste pallette Noi perché siamo pazzi Mangeremo quella verde No No sanno di vomito E io aspetterò Fabio Mollura Quando gli comprerò sta cosa E voglio sentire anche da lui Quanto sanno di vomito queste schifezze qui No non mi pulirò la bocca con un morso di cetriolo Però posso dire una cosa Posso essere sincero con voi Quel cetriolo sarà stato un cetriolo rosso Decisamente oleoso Durissimo Ma il sapore di quel cetriolo Ha fatto meno cacare Di molte cose che ho mangiato adesso Ragazzi Basta Sono Sono stanco qui Sono stanco qui Sono stanco pure sulla pancia Un bacio a brutte notte a tutti Vi terrò aggiornati Per quando quella scatola tornerà disponibile sullo store La comprerò a Fabio Mollura Ci guarderemo Fabio Mollura Che si mangia tutti i dolciumi Grazie per la compagnia Notte nottina chat Spero che vi state divertiti anche soltanto dello 0,3% Brute notte a tutti Ciao Ciao Ciao